Ciao Marco, si sente parlare di NFT ormai spesso, mi hanno proposto di acquistare delle esperienze fatte con cantanti e ovviamente il tutto si traduce in acquisto di cripto che poi ti portano a detenere appunto l'NFT, cosa ne dici? Bisogna stare molto attenti perché è un momento in cui è pieno di truffatori che sfruttano la novità degli NFT per vendere robaccia e soprattutto a volte le vittime sono anche gli sportivi o i cantanti o i VIP stessi che sentono parlare di una novità e dicono beh forse magari posso avvicinarmi, peraltro è un mondo pieno di soldi e quindi di solito li paga anche bene e giustamente in fondo loro possono dire che hanno voluto sponsorizzare una cosa e non potevano sapere bene come sarebbe andata a finire e quindi io direi occhi molto aperti perché è un momento in cui si sfrutta, si sfruttano gli NFT e altre tecnologie legate alla blockchain, si pensa alle criptovalute eccetera, per creare buzzword, parole vuote al fine di ciucciare soldi per cui terrei gli occhi molto aperti e ci rifletterei parecchie volte. Grazie. 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 Grazie.